Doccia gelata sul municipio di Bassano, il consigliere comunale Alessio Savona della lista Pavan Sindaco, il prossimo 18 luglio dovrà presentarsi davanti al giudice a Vicenza per rispondere di reati che vanno dalla frode informatica all'accesso abusivo a un sistema telematico, truffa, indebito, utilizzo di Bancomat. È accusato di aver sottratto 700.000 euro a tre anziani clienti che seguiva nella banca per cui lavorava come consulente, fatti che risalirebbero al periodo 2012-2015. Savona, uomo di punta di Elena Donazzan, era stato citato in giudizio lo scorso 16 maggio, quindi prima delle ultime amministrative che hanno visto la lista Pavan stravincere in città. Non ci si può non chiedere se fosse a conoscenza o meno della sua posizione nel momento in cui chiedeva la massima fiducia ai bassanesi. La procura contesta Savona ad aver usato la password del Bancomat di uno degli anziani a sua insaputa per effettuare versamenti a parenti e amici, di aver fatto bonifici dal conto del cliente di una coppia di Rosatesi, anche dopo aver fatto firmare autorizzazioni per finalità diverse e ancora prelievi con carta Bancomat degli anziani, due dei quali si sono già costituiti parte civile. Alessio Savona, difeso dal legale Paolo Fabris, ha deciso di non rilasciare interviste. L'unico suo commento è un post che ha scritto sulla pagina Facebook in cui si dichiara completamente innocente. Mi sento sereno, scrive Savona, per la consapevolezza di non aver mai commesso i fatti di cui sono accusato. Per questo, dice, anche per la fiducia e la stima che nutro nei confronti della magistratura, ho scelto con altrettanta serenità di affrontare il processo, senza optare per riti alternativi che garantiscano sconti di pena, dove mi batterò con tutte le mie energie affinché emerga la verità dei fatti e la mia piena innocenza. Innocenza che adesso il consigliere Alessio Savona dovrà dimostrare a breve in tribunale.